Nel tuo intervento oggi qui con l'assessore Rossetti hai sottolineato come c'è la necessità per voi ragazzi di avere dei filtri per poter ottenere le informazioni su internet. Esattamente, io ho sottolineato questo aspetto perché, come ho fatto anche l'esempio a Rossetti appunto, vi è un'incapacità di sottolineare i siti fondamentali. Cioè noi in particolare studenti vediamo ogni giorno facendo ricerche come non troviamo mai quello che davvero cerchiamo ma ci appaiono effettivamente siti, immagini, video che poco hanno a che fare con quello che davvero cerchiamo. Gli adulti forse vi possono aiutare poco ma probabilmente invece voi potete aiutare tanti altri ragazzi. Sì esattamente, noi infatti quello che chiediamo è una sorta di istruzione, un corso ulteriore per queste tecnologie, per questi strumenti che adesso stanno prendendo piede a una maniera impressionante ai giorni nostri. Specialmente tra noi giovani sono diventati fondamentali se non quasi, in alcuni casi purtroppo sostitutivi alla vita reale. Però se noi avessimo appunto degli aiuti per cercare di comprendere meglio questi strumenti potremmo utilizzarli al meglio e spiegarlo allora agli altri giovani.